Vincenzo di Lerè L'eresiologia è il ramo della teologia che studia le dottrine contrarie ai dogmi stabiliti nei concili. Sant'Agostino, Clemente di Alessandria, Epifanio, Filastrio, Germano di Costantinopoli, Ignazio di Antiochia, Origene, Giovanni d'Amasceno, Ippolito, Tertulliano, Ciro, Vincenzo di Lerè Hanno scritto opere fondamentali di eresiologia. Perché? Commento Perché, soprattutto nella ricerca spirituale, le menti combattono da sempre contro le altre menti. Ma la mente si avvicina ad una maggiore verità quando, pur ascoltando le altre menti, gode il silenzio dell'assoluto, che non è mente, ma coscienza. Vincenzo di Lerè Vincenzo di Lerè Vincenzo di Lerè Vincenzo di Lerè